Un buon porco dio di un dio cane maledetto e bastardo Allora Se non capite l'italiano guardate anche con i sottotitoli E che più o meno la cosa si capisce Allora Vi parlo di una cosa importantissima in questo video Perché come sempre ripeto Non so quando lo state vedendo Vivo o morto che sarò Il fatto è che Questa mattina è successa come al solito Le solite liti con quella puttana di mia mamma Che in un certo senso Mi fa prendere sempre dispiaceri Sempre brutte cose Ho chiamato anche i carabinieri Sono venuti a casa Insomma è successo un bordello E allora Io come ho detto in molti altri video Ho un fratello plagiato di merda Nel senso che questo fratello Magari a volte uno dice Certe cose tu non le devi dire Ma porco dio Cane Questa volta lo dico Magari che passa all'inverno Questo merda di fratello che ho Che anziché difendere me Difende mia madre Cioè lui va a favore di mia madre Anche se mia mamma gli direbbe Uccidi a Vincenzo Lui mi ucciderebbe Perché è un fratello di merda È un fratello di merda Porco Porco Dio Anche se non dovrebbe bestemmiare a Dio Ma lo bestemmi E non voglio imitare a Vittorio Sgarpi Ma è così Insomma è successo un casino Va bene vi auguro una buona domenica Di questo 5 agosto di merda Di quest'anno maledetto 2019 E ciao a tutti Ciao